Abbiamo fatto tante progettualità, i lavori di sommorgenza, ma tanti finanziamenti presi sia per quanto riguarda la progettazione ministeriale che la realizzazione. Il Comune di Sapri ha formalizzato anche un accordo di alto partenariato con il CUCRI, il Centro di Ricerca dell'Universitario, che eseguirà come alta vigilanza tutti i lavori che vengono effettuati. E' molto importante, la nostra conformazione, la problematica dell'erosione costiera collegata al distesso idrogeologico è un problema complesso che va monitorato nei migliori dei modi. Nei prossimi mesi, subito dopo l'estate, inizieremo con gli interventi sull'area del canale Brizzi, del torrente Brizzi. In questo momento stanno già effettuando lavorazioni sul Vallone in Cecco, quindi continuano tutte le attività, Vallone Santa Domenica, Ischitello e tutte le progettualità di cui abbiamo parlato nei mesi passati. Molte sono già iniziate le operazioni di lavorazione, ci sono delle gare appena concluse. Continuiamo a 360 gradi per un problema storico del nostro territorio che richiede la massima attenzione e il massimo della professionalità per risolverlo. Ed è per questo che abbiamo deciso di effettuare questa convenzione, accordo di alto partenerato con il centro di ricerca interuniversitario che è il soggetto più titolato che abbiamo sul territorio per problematiche di grandi rischi.